What's up my brother inglese family ragazzi facciamo riuscire in inglese perché è una cosa riuscire come si dice in inglese è una cosa che appare spesso vediamo subito quindi voglio partire dicendo che una volta ho chiesto alla mia prof d'italiano come o qual è la differenza tra potere e riuscire proprio perché in inglese lo sapete che riuscire diremmo spesso questo can o se avete visto un mio video recente be able to se can va in altri tempi verbali quindi principalmente per dire riuscire in inglese si dice can o in altri tempi verbali in ogni presente be able to oltre questo c'è anche manage to e succeed manage to è più comune di succeed e magari piuttosto che can si userebbe manage to quando ci vuole tipo fortuna o un'abilità quando conquisti una cosa che magari era più difficile manage to ci andrebbe bene quindi iniziamo con qualche esempio e vediamo se ci riuscite voi ad esempio numero uno il volume è troppo basso non riesco a sentire niente come lo diresti tu in inglese pensateci 3 2 1 quindi io madrelingua inglese qui direi the volume is too low I can't hear anything semplicemente can tanto siamo nel presente non è una fortuna un'abilità è semplicemente non riesco a sentire I can't hear it I can't hear anything notate che non facciamo negativi doppi in inglese I can't hear anything non si dice I can't hear nothing andiamo al numero due quindi numero due è la stessa frase solo che è nel passato quindi il volume era troppo basso non riuscivo a sentire niente come lo diresti allora 3 2 1 quindi è tutto uguale solo che the volume was too low I couldn't hear anything oppure the volume was too low I wasn't able to hear anything sappiamo dal video precedente che can nel passato si può dire could oppure anche was able to in questo caso wasn't able to perché è negativo volume was too low I wasn't able to hear anything buonissima frase numero 3 sono riuscito a trovare l'unica carta originale questo è un po' diversa dalle altre frasi come lo diresti tu in inglese 3 2 1 quindi accetterei anche I was able to find the only original card però in questo caso è ancora meglio dire I managed to find the only original card proprio perché o fortuna o abilità ci voleva quindi forse managed to va meglio di semplicemente was able to or can I managed to find the only original card detto questo andiamo al numero 4 che è siete riusciti voi a vendere tutto ieri quindi pensateci accetterei tre frasi diverse qui cosa ne pensate 3 2 1 quindi la prima frase che mi piace è were you guys able to sell everything yesterday semplicemente quel be able to naturalmente nel passato con questo essere nel passato were were you guys able to sell everything yesterday accettabile la seconda frase che accetterei pure è did you guys manage to sell everything yesterday forse questo va ancora un po' meglio anche perché vendere le cose cioè è una cosa che devi conquistare che devi fare you have to accomplish this quindi manage to forse va un po' meglio e cosa va bene pure sarebbe did you guys succeed in selling everything yesterday anche se preferisco sempre la be però anche succeed cioè avere il successo di fare questa cosa e notate che si dice succeed in e poi ing se c'è un verbo che segue quindi succeed in facendo qualcosa succeed in selling everything yesterday ok andiamo al numero 5 ci sono 6 esempi number 5 boh non ci riesco proprio non ci riesco una frase così senza molto contesto come lo diresti 3 2 1 quindi forse qui direi I can't do it I just can't do it quindi se hai riuscirci da solo forse è meglio aggiungere anche un do tipo non riesco a farlo non ce la posso fare non ci riesco I can't do it non ci riesco I just can't do it non ci riesco non ce la faccio I can't do it ok e per finire ragazzi l'ultima frase sei l'unico che è riuscito a usare bene ogni parola in una frase pensateci e ditemi voi come si direbbe in inglese 3 2 1 allora qui io direi you're the only one who managed to use every word in a sentence ormai avete anche capito perché magari è difficile farlo ma tu ci sei riuscito so you managed to use every word in a sentence e adesso ragazzi vedete come si dice riuscire in inglese voglio solo sottolineare che can nel presente or be able to nei altri tempi verbali è probabilmente la traduzione più comune e più giusta come sempre ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e spero come sempre che abbiate imparato qualcosa o qualcosina di utile iscrivetevi al mio canale ragazzi e ci vediamo al prossimo video ok peace